Grazie, buonasera a tutti. Marco ha concluso il discorso ricordandoci una amara verità. Primi in Europa per corruzione. Taranto, la Magna Grecia ha portato la cultura in tutto l'Occidente, ha fatto la storia. Adesso dobbiamo noi accontentarci di questo primato? L'autorità nazionale anticorruzione. Parlare di Massafra non per il suo castello, per le sue fantastiche grotte gravine di tufo, non per queste meraviglie. Ma si parla per la ditta che conosciamo bene, la ditta Venire. Si parla di un capoclan assunto da questa ditta che prende la parola accanto all'amministrazione comunale e parla di raccolta differenziata. Non l'abbiamo raccontato noi. L'ha raccontato l'autorità nazionale anticorruzione. E noi che cosa abbiamo fatto? Noi non ci stiamo che di Massafra si parli così perché Massafra è altro, è sempre stata altro, così come Taranto non è Ilva ed è sempre stato molto altro. Ma ci sono realtà dove, ad esempio, una gestione dei rifiuti improntata alla strategia rifiuti zero che ci viene suggerita dall'Europa perché l'Europa non ci suggerisce solo le regole sull'euro e sulla moneta unica, ma ci suggerisce anche le regole sull'ambiente, sull'energia, sul reddito di cittadinanza e sono i nostri governatori che scelgono che cosa eseguire e che cosa invece ignorare. Dove si è realizzata? Non solo si è portato un enorme miglioramento alla salute umana, perché pensiamoci un attimo, la termodinamica ci dice che nulla si crea e nulla si distrugge. Io se un rifiuto lo brucio, me lo respiro, non sta scomparendo dalla faccia della terra, lo sto respirando, è fisica. Non solo abbiamo avuto miglioramenti laddove si è applicata questa strategia sulla salute umana, ma si sono creati posti di lavoro. E sto parlando della regione francese Nord-Pas de Calais che in un anno ha prodotto 20.000 posti di lavoro. Ognuno di voi che adesso è qui che ci ascolta è importantissimo nel progetto del Movimento 5 Stelle. Noi non immaginiamo assolutamente una politica come quella che si è realizzata fino ad oggi, fatta di persone che sono lì da 20, 30, 40 anni nei consigli comunali, nei consigli regionali, in Parlamento. E un'altra parte di cittadino che è fuori, che grida, cerca di farsi ascoltare, scrive lettere, cerca di sensibilizzare chi è dentro. Per noi la politica non è fatta di persone che sono dentro e di persone che sono fuori. Noi la immaginiamo come un rinnovamento continuo, in modo anche che chi fa politica lo fa con la consapevolezza che poi tornerà a fare il cittadino. E quindi ogni decisione che prende ci pensa almeno due volte per ognuna di quelle decisioni perché sa che ricadrà su di lui. Guardate che ad essere migliori di chi fa politica da anni, da 20, 30 anni, non ci vuole assolutamente nulla. Non ci vuole nulla. Basta essere onesti prima di tutto e sapere ascoltare. Prima c'era un giornalista che mi ha fatto alcune domande nel colloquio, insomma, è venuto fuori della chiusura dell'ospedale di Massafra. Io gli ho fatto una domanda semplice. Commettiamo che è avvenuto gradualmente, hanno iniziato a chiudere reparto dopo reparto e poi si è chiuso. È accaduto così. Il meccanismo è sempre lo stesso. Come vedete queste cose si imparano in fretta. Vi prego davvero di sentirvi tutti partecipi di questo progetto perché prima o poi saremo tutti chiamati a fare politica per un periodo della nostra vita. Ma anche nel momento in cui siamo fuori siamo sempre cittadini e come cittadini abbiamo il dovere di informarci e di informare e di seguire chi in questo momento è dentro le istituzioni perché faccia quello che serve al nostro futuro, che deve andare nella direzione della salute, del lavoro e del reddito per tutti noi.